quindi stiamo facendo scuso per loro la presenza d'atto che peraltro contiene l'invito ad andare avanti con noi allora, favorevole si, se li contiamo tutti allora, facciamo un'opera allora, contiamo votanti, ha sui mandi e deleghe che torna a fare con le deleghe, eh? Giovanni, votanti no, ma noi vogliamo uno per uno e fare bene che se stessi con noi bene, allora scusate, io ho un d'Egitto e poi voi mi dite favorevole e favorevole allora, Apricane favorevole favorevole Aquila d'Aroscia favorevole Armo favorevole Aulico Assente Bordighiera favorevole favorevole Borghetto d'Aroscia Borghetto d'Aroscia non c'è questo Borgomaro si si Carabonica favorevole questi non ci sono Cezio favorevole Chiusanico favorevole Chiusa Vecchia favorevole Cipressa eh Cosio d'Aroscia favorevole Costa Rainiera non c'è più Diano Marina favorevole Diano San Pietro Dolce Acqua non c'è scusate Imperia vororevole Mendattica vororevole Lucinasco vororevole Monte Grosso vororevole ospedaletti vororevole Pietra Bruna Sperrinaldo Pieve di Teco Pompeiana Ponte d'Asio Ranzo Rezzo San Bartolomeo San Biagio San Lorenzo Sanremo Santo Stefano Aspenuto Soldano favorevole Taggia Triora Valle Buona Valle Ecrosia Ventimiglia Vessadico favorevole Quindi la pratica è passata con voi vediamo quantità dei risultati voi Grazie Grazie Grazie